Riprendo la serie di video giornalieri Parlandoti proprio del video che ho condiviso ieri sul canale di guadagnere online monetizzando.com Sì, perché ieri ti ho spiegato come creare un sito di incontri Ma non ti ho spiegato come puoi guadagnare tramite la piattaforma di affiliazione dei Team Factory E non è stato un caso Infatti, il motivo è presto detto Il video di oggi è dedicato proprio a come fare per guadagnare tramite dei Team Factory De Team Factory, l'abbiamo detto, è un'affiliazione white label, quindi marca bianca Che ti permette di creare il tuo sito di incontri online e guadagnare tramite questo sito di incontri Ma come si guadagna con dei Team Factory? Semplicissimo Praticamente il tuo obiettivo è semplicemente quello di portare più iscritti possibili all'interno della piattaforma Ovvero del tuo sito di incontri e successivamente sarà dei Team Factory A lavorare per far sì che questi utenti che tu hai fatto iscrivere sul tuo sito di incontri Possano abbonarsi, quindi pagare, per avere il servizio completo E riuscire a mandarsi messaggi all'interno della piattaforma con altri utenti Quindi conoscere altre persone Quindi si può guadagnare tramite un sito di incontri Facendo iscrivere persone molto interessate a conoscere altre persone Ad incontrare altre persone E quindi spingendole a pagare degli abbonamenti Questi abbonamenti possono essere chiaramente mensili, trimestrali, semestrali o annuali A seconda della tipologia di abbonamento Tu potrai guadagnare il 50% e il 40% Come abbiamo visto nella sezione dedicata alla struttura commissionale di Team Factory E ricevere non solo il 50% sul primo abbonamento Ma anche su tutti i rinnovi Ovvero sul canone mensile Che l'utente andrà a pagare Sul tuo sito di incontri Quindi se vuoi davvero guadagnare con un sito di incontri Dovrai chiaramente portare non solo iscritti sul tuo sito Ma cercare di trovare gli utenti più interessati E che quindi vogliono davvero utilizzare il tuo sito Creare il loro account Ed effettuare un pagamento abbonandosi Per poter scambiarsi messaggi Ed accedere a tutte le funzionalità Presenti all'interno del tuo sito di incontri Ecco come fare per guadagnare con dei Team Factory E come ti avevo promesso Questo è il secondo video dedicato a dei Team Factory Spero che anche questo video ti sia stato utile Ti auguro buon lavoro e buon guadagno online Ciao, al prossimo video